Lui mi ha detto che verranno 3-4 giocatori, questo mi ha detto nei giorni scorsi Lo devi dire a noi, lo devi dire ai tifosi, i ruoli quali sono Noi non vogliamo i nomi, l'importante è che ci dice Noi ci stiamo avendo su 3-4 posizioni, i ruoli sono questi I nominativi non ce li diceva, ci facesse almeno passare un Natale tranquillo Perché noi domenica allo stadio andremo numerosi per tifare intorno alla nostra squadra Però anche la società si deve muovere verso di noi Non ha fatto nulla per far andare la gente allo stadio Grazie per il tuo intervento, è stato molto chiaro Io penso anche una cosa, per come stanno le cose del Bari Qualcosa succederà sicuramente entro la fine dell'anno Quindi tra Natale e Capodanno un po' di tranquillità dovremmo averla Anche perché credo che il 6 gennaio dobbiamo arrivare con una squadra In grado anche di poter tentare il colpaccio Io credo che non si possa assolutamente sottovalutare il mercato di gennaio Il Bari ha bisogno di una cura ricostituente robusta Che riguarda sicuramente il recupero di alcuni giocatori Però occorre qualcosa Sicuramente occorre qualcosa perché io invito sempre questo motivo di riflessione La crisi del Bari si accentua con gli infortuni Ma il Bari è andato in crisi prima degli infortuni Il Bari ha cominciato a perdere colpi già prima degli infortuni Non bisogna trascurare questo dato Evidentemente bisogna un po' come dire Rimescolare le carte Se rivedi un po' le cose Probabilmente sono quegli stessi giocatori Che ti hanno consentito di fare un campionato di un certo livello L'anno scorso Quest'anno magari non hanno avuto lo stesso livello di forma Quindi è chiaro Poi dopo quella partita a Genova Che potevamo addirittura Poteva segnare quasi un passaggio in positivo Perché in 11 contro 10 Sembrava la nostra portata addirittura In caso di vittoria il Bari sarebbe stato secondo E avrebbe portato la Lazio Capolista La seconda successiva Pubblicità poi torneremo insieme Regoci insieme Siamo con Michele Antonucci Direttore responsabile della rivista Il Bari 080 501 9998 per le vostre telefonate Ma dobbiamo ancora sfogliare L'Albun dei Ricordi Bari Palermo 2 a 0 Questo nel 2001 Dopo il gol di Eninaia Alla fine del primo tempo Ci fu un euro-goal di Valdés Questi sono gli anni Diciamo che come ti ho detto in altre trasmissioni Ricordo meno bene di quelli precedenti Perché sono quel lungo periodo di Serie B Buio, le calze Sì abbiamo un po' così seguito Con meno entusiasmo In alcuni momenti comunque E quindi questa è una vittoria In Serie B ovviamente 2 a 0 Poi quella successiva Se me la passano È un'altra vittoria del Bari Sfogliamo pagina Cambiamo pagina Così vediamo un'altra immagine Relativa ai precedenti Fra Bari e Palermo Eccolo qua Bari-Palermo 2 a 1 Vediamo se me lo inquadrano Si vede Sì C'era Pillon Si vede il colpo di testa Di De Rosa Che a fine primo tempo Porta in vantaggio il Bari Dopo che aveva pareggiato Corini Per il Palermo E prima aveva segnato Cordova su rigore Andiamo ancora avanti E poi Con le immagini relative a Bari-Palermo Vediamo un po' Visto che non possiamo mandare le immagini Ecco A colori Abbiamo ripreso dalla rivista Le immagini della partita dell'anno scorso Spettacolare Un po' aiutati anche dal Palermo Che ci ha lasciato in vantaggio numerico E da là abbiamo dilagato Però veramente godibile come partita Molto bella C'è un amico in linea Pronto? Pronto Buongiorno Enzo Ciao Antonio Ciao Carlo Enzo Domenica è la partita fondamentale per Bari Abbastanza Se vincere Domenica vince Enzo guarda Ritorna la voglia a tutti i tifosi Di ritornare allo stadio Perché è questo che adesso sta mancando ai tifosi Che rimangono a casa La domenica Con le famiglie Allora se vince Domenica E poi il presidente In carica Prende veramente 3-4 persone Di nome di spessore Enzo Perché c'è parecchia gente In Serie A Che sta in tribuna Tipo Cruz Tipo Lucarelli Ed altri Vero che il Bari È la svolta del campionato Per poter Diciamo Riprenderci E rimanere in Serie A Perché se no Il prossimo anno Per tutti i tifosi È nero andare allo stadio Enzo Grazie per il tuo intervento Grazie Per me Ripeto Correranno due giocatori Di grande qualità Di grande livello E due giocatori Magari per aumentare numericamente La rosa Io credo che alla fine Davvero quattro giocatori Siano indispensabili Probabilmente non prenderei Con tutto rispetto Per il tifoso precedente Dei Cruz Dei Lucarelli Che ormai forse Sono un po' fuori Dagli stati di forma Prenderei qualcuno Che insomma Possa essere utile Immediatamente Non possiamo aspettare Una preparazione Per un altro giocatore Lucarelli peraltro è infortunato Ciao Enzo Sono Beppe Ciao Beppe Ciao Dunque Enzo Noi abbiamo spesso modo di interlocuire la mattina E non posso che ribadire alcuni principi Innanzitutto Come ti è noto E come conosci bene il mio pensiero Questa è una società Che da trent'anni Da quanto gestisce Appunto La S.Bari E' una società Che non fa sognare i tifosi Quindi E' una società senza ambizioni Che non alimenta Già mai Il benché minimo sogno Non abbiamo mai potuto Appunto Sognare di partecipare Quanto meno Alla Coppa UEFA O attualmente Alla Europa League Un altro elemento Uno spunto di riflessione Che ti offre è questo Al di là Delle Delle infortuni I problemi Come è poc'anzi evidenziato Risalgono Alla impostazione Alla costruzione della squadra A luglio Anzi Bisognerebbe Unire Riunire Il girone di ritorno Dell'anno scorso O il girone di data di quest'anno Quindi c'è questo trend Negativo Che è cominciato dal girone di ritorno Io credo che proprio il 2010 Si è stato caratterizzato Da più sconfitte Che vittorie Come possiamo pensare Che ciò che non ha comprato A luglio Il presidente Possa comprare A gennaio Come si può sognare Pensare che il presidente Finalmente si determini Ad investire Ciò che non ha già mai investito Per far sognare noi cifosi Sei stato molto chiaro Grazie Beppe Grazie un abbraccio Vabbè 080 501-99-98 Penso che qualcosa andrà fatto Perché nessuno ha voglia di retrocedere O comunque di gettare le armi A questo punto del campionato Però io dico che Anzi l'unico entusiasmo Che dovremmo riprendere O comunque farci Così che possa spingerci È quello appunto Di fare un campionato Che Ventura Definisce Storico Quello di salvarci In una situazione pur precaria Come quella di questo momento Io in verità La scorsa stagione Ho fiutato per un attimo La possibilità di fare Un salto reale Sì L'abbiamo avvertita un po' Si è avvertita Poi sai Ma ti ripeto Dallo scorso Il mercato di gennaio Se era possibile Già in quel momento Puntellare la squadra Andava fatto Perché probabilmente Quello era il momento Di massima Di massima euforia Di grande entusiasmo Di una squadra che funzionava Sai adesso Il rischio che corri Ma lo devi correre Questo rischio È di prendere dei giocatori Che si inseriscono In un contesto Che fa fatica Io Sono dell'idea Che comunque Lo sforzo adesso Vada fatto È anche vero Che la squadra Deve cominciare Ad andare un po' A manetta Come si suol dire E deve recuperare Anche dei giocatori importanti Io faccio un esempio Su tutti Emblematico Emblematica La differenza Del rendimento Di Almiron Dello scorso anno E di Almiron Di questa Fortuna Ma se lo rifletti La stessa considerazione Su altri due Tre giocatori E sono quattro Cinque Della vecchia Squadra titolare Oppure che si sono Addirittura poi Infortunati Allora capisci Che poi Diventa ancora più difficile Fare determinati programmi L'arbitro Nicola Rizzoli Vediamo subito Bruciarsi l'arbitro Sì diciamo No 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 Rizzoli Ecco abbiamo nella fotografia Perché ci ha arbitrato L'ultima volta L'anno scorso Con la Roma Perdemmo in casa 1 a 0 Però devo dire Che in linea generale Non è totalmente negativo Abbiamo L'abbiamo avuto già In nove precedenti Quindi abbiamo Quattro vittorie Tre sconfitte In virtù anche Di quest'ultima L'anno scorso Con la Roma E due pareggi Chiedo alla regina Se possiamo collegarci Con Alberto Savarese Perché ha bisogno Di parlare Di questa situazione Della trasferta Vietata ai tifosi Del Bari Doviamo andare in pubblicità Andiamo in pubblicità E poi torniamo insieme Col bianchi e rosa Di B Sport